Adescava minorenni offrendo loro giri sulla moto, ricariche telefoniche. Il custode di una villa comunale di Ragusa è stato fermato dalla squadra mobile locale nell'ambito dell'inchiesta scooter per adescamento e violenza sessuale aggravata dall'aver commesso il fatto ai danni di minori. Ossessionato dai bambini, il pedofilo si appostava vicino scuole o luoghi frequentati dai bambini individuando la giusta preda da adescare per poi invitarla a fare un giro a bordo del suo scooter. Se mi segui ti faccio guidare la mia moto, prometteva. Vieni con me. Ad altri invece avrebbe regalato ricariche telefoniche o piccole somme di denaro convincendoli a lasciarsi palpeggiare e in alcuni casi ad andare oltre. È stato grazie alla segnalazione di un 15enne avvicinato nella villa comunale che sono scattate le indagini. Ad uno dei bambini, figlio di un parente, l'uomo avrebbe anche proposto di andare a vivere insieme lontano dalla sua famiglia, progettando la fuga verso una meta segreta. Grazie agli intercettazioni e pedinamenti, gli uomini della polizia hanno tenuto sotto controllo la situazione impedendo che il pedofilo potesse abusare del minore e intervenendo prima che questi potesse accettare la sua proposta. L'indagato si trova ora in carcere, mentre le vittime, che risultano essere sei, sono state ascoltate dagli investigatori alla presenza di una psicologa, confermando le accuse e riferendo gli abusi subiti negli anni.